Bene ragazzi, direi che la macchina termica è il ponte di collegamento, cioè è un concetto che sta in mezzo tra il primo principio della termodinamica ed il secondo principio della termodinamica. Noi abbiamo studiato il primo principio della termodinamica che dice che il calore è uguale alla somma del lavoro e della variazione di energia. È un concetto molto generale che va oltre il concetto di gas perfetto, nel senso che si può utilizzare anche per i fluidi, per i corpi, è molto generale. Ovviamente la termodinamica infatti studia gli scambi di energia e abbiamo visto che questa energia, oltre che essere sotto forma di energia cinetica, e quindi energia interna del nostro gas, sotto forma di lavoro e quindi un'energia utilizzata dal sistema, ad esempio, per espandersi o subita dal sistema per comprimersi. Abbiamo visto che anche c'è un'energia che è legata al calore, legata appunto all'energia scambiata, ok? È una forma di energia scambiata dal sistema all'ambiente esterno. E la macchina termica sfrutta il calore, nel senso che la macchina termica è un dispositivo, io ho scritto sotto tanti esempi, che sfrutta il calore, nel senso che è un dispositivo che trasforma, attenzione a tutte le parole, nel senso che, va bene, dispositivo significa appunto macchina. Che trasforma, allora cosa vuol dire trasforma ragazzi? Allora, trasforma, quindi passa da una forma, che fa passare da una forma all'altra, ok, dell'energia, in modo ciclico. Cosa vuol dire ciclico? Che a un certo punto si ritorna allo stato termodinamico iniziale, ok? Abbiamo visto inizio, un po' di qualche ciclo termodinamico. Sostanzialmente passiamo da, eccolo qua, un ciclo termodinamico, si passa da uno stato termodinamico fissato e si compie una serie di trasformazioni termodinamiche che ritornano allo stato iniziale. Bene, quindi il concetto di ciclo è chiaro e cosa fa la macchina termica? Grazie ad il calore che riesce ad assorbire, ne trasforma, attenzione, parte in lavoro. Ecco, con questa frase ho già introdotto il secondo principio della termodinamica, perché ho detto che riesce a trasformare parte del calore in lavoro, non riesce a trasformarlo tutto. Questo potrebbe già essere un enunciato del secondo principio della termodinamica. Comunque andiamo piano col secondo principio della termodinamica perché non è assolutamente semplice. Facciamo però, ragazzi, degli esempi di macchina termica. Quindi, in modo molto semplice, possiamo immaginare la macchina termica come un dispositivo che mangia, assorbe un quantitettivo di energia e una parte riesce ad utilizzarla sotto forma di lavoro, mentre una parte purtroppo, per poter tornare allo stato iniziale, la deve disperdere. E esempi sono ad esempio la macchina a vapore, la locomotiva a vapore, che sfruttano sostanzialmente il calore, ad esempio, dato dal bruciare il carbone. Poi, alla fine, il carbone è legna. Il motore a benzina, ottenuto grazie a far bruciare la benzina. Quindi vedete che poi questo calore che il corpo riesce ad assorbire poi è legato anche a reazioni chimiche. Alla centrale nucleare, quindi questa volta, ok, il combustibile, ciò che viene utilizzato per rilasciare energia non è, ad esempio, il carbone che viene bruciato, ma è l'uranio che per fissione nucleare viene disintegrato. Ciò, diciamo, alla fine rilascia energia che mi va a scaldare l'acqua, che diventa vapore e acqua, quindi poi alla fine, diciamo, si lavora col gas, col vapore e acqua, e anche la centrale termoelettrica. Bene. Allora, come stiamo vedendo, c'è bisogno, no, di scambio di calore. E ovviamente, quindi, per avere scambio di calore, io devo avere, il sistema deve essere a contatto sicuramente almeno con due temperature diverse. Se lavorasse sempre alla stessa temperatura, io non riuscirei ad avere assolutamente un ciclo. Questo è chiaro. Quindi, lo schema di una macchina termica è fatto così, nel senso che questa è la nostra macchina termica. E la macchina termica, in modo semplice, cosa fa? Allora, assorbe energia dall'ambiente e questa energia, ok, assorbita dall'ambiente, quindi in un sistema sicuramente, oppure diciamo da, sì, da un sistema che si trova ad una temperatura elevata, ok, assorbe calore, noi sappiamo che il calore passa da un corpo caldo ad un corpo freddo, quindi sicuramente in questo step di assorbimento di calore l'ambiente si trova ad una temperatura più alta della macchina stessa. Il sistema assorbe questa energia. L'energia che ha assorbito, che infatti ho chiamato energia totale entrante, ma non sono definizioni, è per farvi capire, no? Questa macchina termica cosa fa adesso che ha assorbito tutta questa energia? Ecco, è in grado parzialmente di produrre lavoro. E quindi il lavoro, che cos'è? È la frazione di questa energia totale entrante che viene utilizzata. Ma una parte, ok, viene ceduta all'ambiente. Ovviamente adesso la macchina termica si trova in uno stato in cui ha una temperatura maggiore dell'ambiente esterno e una parte deve cederla. Questo per riuscire a ritornare allo stato iniziale. Quindi se io voglio creare un ciclo, devo sicuramente essere, anche in momenti proprio dal punto di vista cronologico, diversi, però a contatto con due temperature diverse esterne. E l'idea qual è? Ragazzi, l'idea è che perché allora io ho bisogno però di un ciclo per avere una macchina termica? Beh ragazzi, perché poi in termodinamica un ciclo dura molto meno di un secondo, magari dura un microsecondo, un millisecondo, e io vorrei creare una macchina, ma come ad esempio la macchina a vapore che duri 60 anni. Quindi è logico che io voglio creare una macchina, lasciamo a perdere poi i problemi di usura, però voglio creare appunto una macchina che duri tanto tempo, che in un secondo mi faccia mille, un milione di cicli. Se non producesse i cicli, la produzione di lavoro smetterebbe dopo pochissimo tempo. E invece io voglio che il mio treno percorra tantissimi chilometri e quindi che produca tanto lavoro. Ecco, un modo per la macchina termica, l'unico modo di produrre lavoro è assorbire questo calore, che ho chiamato QC, dall'esterno. Bene, e vi continuo a dire che però di questa energia che il sistema assorbe, una parte riesce davvero a trasformare il lavoro, una parte purtroppo per chiudere il ciclo la deve disperdere. Questo è molto importante. Ora, partiamo però dal primo principio della termodinamica. Cosa dice il primo principio della termodinamica per quanto riguarda un ciclo? Allora, attenzione. Beh, il primo principio della termodinamica è espresso da questa equazione qua. Cioè il calore scambiato con l'ambiente è uguale al lavoro, che può essere compiuto, subito dal nostro, a questo punto, dalla nostra macchina termica, più la variazione di energia ora. In un ciclo, ΔU fa 0. Perché? E ragazzi, perché in un ciclo si torna allo stato iniziale? Quindi, ovviamente, visto che l'energia interna è una funzione di stato, ΔU sarebbe l'energia allo stato iniziale meno l'energia allo stato finale, ma in un ciclo lo stato finale e lo stato iniziale coincidono, ok? Quindi, per andare da A e fare tutto il viaggio, ΔU fa 0. Per convincervi di questa cosa, ho fatto un piccolo esempio. Cioè, ho creato le mie quattro trasformazioni. Ad esempio, AB è una isocora, BC è un'isobara, CD è una diabatica e DA è un'altra isobara. e ho simulato, diciamo, ho creato dei dati per quanto riguarda calore, lavoro e ΔU. E cosa possiamo vedere? Allora, se noi facciamo, se noi tiriamo una riga e guardiamo ΔU totale, quindi per andare da A ad A, sostanzialmente, cosa succede? che ovviamente ΔU è obbligato, è vincolato a fare 0. Appunto perché andiamo da A ad A, quindi ΔU sarebbe UA meno UA, quindi 0. Il lavoro però non fa assolutamente 0, anzi, se noi sommiamo, il lavoro totale che cos'è? Più 3, 0, perché in un'isocora, diciamo, il lavoro è 0. 30, 40, 70, meno 15, 55 J. Allora, che cos'è 55 J? Allora, visto che tutto BC fa 30 J, che cos'è? Il lavoro è l'area, no? Quindi, 30 J sarebbe quest'area viola. Poi, più 40, cosa sarebbe questo, quindi questo qui è più 30, cosa sarebbe ragazzi più 40? È tutta quest'area qua. Io ricordo che il lavoro è l'area sottesa, ok? Dalla trasformazione, e poi meno 15. Ora ragazzi, che cos'è meno 15? Beh, meno 15 tanto vuol dire che io non devo aggiungere A, ma devo sottrarle. Però, ciò che fa 15 è il lavoro fatto dalla mia trasformazione di A, e quindi io devo all'area viola e rossa sottrarre, non aggiungere ragazzi, sottrarre, l'area blu. E allora cosa succede? Succede che il lavoro di, visto che devo sottrarre quest'area, e cosa rimane come area? Si trova, in modo molto semplice, che il lavoro in un ciclo non è nient'altro che l'area interna, ok, ha la mia figura geometrica creata dal ciclo. Questo è il risultato interessante, nel senso che allora quest'area qui vale 55 joule. Però, la domanda è, ma il sistema, quanto calore ha assorbito e quanto calore ha ceduto? E' importante fare questa differenza, perché ovviamente se uno somma tutto il calore viene più 30, più 50, 80, meno 25, 55 joule. Però, abbiamo mescolato qui il calore assorbito ed il calore ceduto, non va bene, io voglio differenziarli. E allora, dico così, ok, 55 joule. E questo, tra l'altro, rende già idea del primo principio della termodinamica, perché comunque Q è uguale ad L più delta U. Ovviamente in un ciclo delta U fa 0 e quindi Q è uguale ad L. Benissimo, in un ciclo Q è uguale ad L, però Q con all'interno il calore assorbito ed il calore ceduto. Però, se io voglio differenziare il calore assorbito dal calore ceduto, perché questo poi, ragazzi, è importante per una macchina termica, allora il calore assorbito raccoglie dentro di sé tutti i calori positivi e quindi il calore assorbito fa 80, mentre il calore ceduto globale tiene conto di, diciamo, somma tutti i calori negativi e quindi meno 25. Ecco, nella macchina termica, infatti, sono queste tre grandezze importanti, il lavoro, il calore assorbito ed il calore ceduto. Però, visto che io appunto non voglio far confusione, per quanto, vedete, riguarda una macchina termica, io però vedete che parlo di Qc e di Qf, mentre qui io parlo di calore assorbito e calore ceduto. Che legame c'è tra di loro? Ma alla fine guarderete che c'è un legame semplicissimo, però andiamo con calma. Quindi abbiamo visto che in un ciclo delta U fa 0 e, poiché Q è uguale a L più delta U, è il primo principio della termodinamica, e delta U fa 0, Q è uguale ad L, nel nostro esempio, 55 J è uguale a 55 J. Però il calore, ok? Quello che effettivamente faceva, nel nostro esempio, 55 J, io lo separo, diciamo, nel mio calore assorbito, che era quello che faceva più 80 J, e in quello ceduto che faceva meno 25. Come possiamo ancora vedere, 55 è uguale a 80 meno 25. Quindi, separandoli in questo modo, però, io mi vado, io vado a dire che il calore, però, lo vedo come la somma tra il calore assorbito e il calore ceduto, e il calore assorbito è positivo, ed il calore ceduto è un numero negativo, nel nostro esempio fa meno 25. Ora, matematica, banalissima, se io sposto il calore ceduto, quindi questa quantità di là, cosa succede? Q ced è un numero negativo, se lo sposto di là, diventa positivo. E quindi, ottengo una relazione molto semplice, che sembra complessa, ma non ho fatto niente, perché adesso queste tre quantità, ok? Cioè, ottengo che il calore assorbito, spostando di là Q ced, è il lavoro meno il calore ceduto. Però, chiamando Q ceduto, quindi il calore dato dall'ambiente caldo, a temperatura calda, chiamandolo Q assorbito, e Q f, attenzione, meno Q ceduto, e Q f è il calore, che in sostanza è l'energia, che il sistema deve cedere, ok? All'ambiente più freddo, cosa succede? Che io ottengo questa cosina qui. Allora, sempre in riferimento all'esempio di prima, a questo punto cosa succede? Che queste tre quantità, Q c, L e Q f, definite in questo modo, sono tutte tre quantità positive. E così io non devo più rompermi con le quantità negative. Da adesso in poi, ok? Q f, L e Q c saranno tutte quantità positive. Nell'esempio di prima, quindi, Q c, poiché è semplicemente uguale a Q assorbito, è ancora il nostro 80, ok? L è il nostro 55, e Q f è il nostro più 25, perché Q f, sostanzialmente l'unica cosa che ha cambiato, è il negativo del calore ceduto. E uno dice, beh, prof, ha fatto molta confusione per, e ha semplicemente ha spostato una quantità di là. Eh sì, però, vedrete che è molto meglio vedere un'impostazione del genere rispetto all'impostazione a sinistra. Perché? Con l'impostazione a sinistra, in cui parliamo di calore assorbito e calore ceduto, vedete che non si capisce bene il fatto che questa sia l'energia che entra e che poi si distribuisce in due forme. Perché c'è un più 55, un meno 25, non è molto chiaro. In questa visione è molto chiaro il primo principio della termodinamica. Perché? Perché dice che il calore è uguale al lavoro. Il calore, ovviamente, è la somma dei due, e quindi 80 meno 25 fa 55, il lavoro fa 55. Però, anche perché vogliamo avvicinarci al secondo principio della termodinamica, è più, anche se è equivalente, è meglio, ok, dire che il sistema ha immagazzinato, quindi assorbito, un'energia di 80 joule, come se avesse guadagnato 80 euro. Poi, 55 joule, 55 euro, li ha fatti fruttare. Mentre ne ha persi, per ritornare allo stato iniziale, per creare il ciclo, 25 joule, 25 euro. Questo è, secondo me, molto più intuitivo. Il fatto che 80 joule, che è l'energia in ingresso, venga suddiviso in 55 di energia utilizzata e in 25 di energia, poi alla fine, sprecata, perché viene rilasciata all'ambiente, secondo me è molto, rende molto chiaro ciò che fa una macchina termica. Lo ripeto per l'undicesima volta. Abbiamo, il nostro sistema, in questo caso, quindi, è descritto, ad esempio, da questo ciclo. Cosa fa questa macchina termica? Assorbe un'energia di 80 joule, di cui 55 uguali, attenzione, all'area del mio ciclo termodinamico, vengono utilizzati per far funzionare la mia macchina termica. Mentre, di questi 80, 55 quindi sono stati utilizzati, mentre 25 joule sono energia persa, cioè ridata all'ambiente, ma indispensabili per creare il mio ciclo.